Ehi lo sapevi che su fandomio.com ora ci sono sconti natalizi fino al 50% in più E adesso il codice sconto jacksard vale ancora di più, puoi risparmiare ulteriormente Quindi vai su fandomio e poi godete il video Questa sera avremo il live to me in wire Cioè nel senso, non che sarà qui per un'intervista, se magari Ma avremo però l'opportunità di porgli qualche domanda Perché infatti questa sera alle 21.30 Mi raccomando ragazzi qui su youtube, in live Me in wire risponderà alle domande dei fan Che in teoria dovrebbe riguardare più che altro Babylon, il prossimo film in uscita Ma ognuno può chiedergli un po' quello che vuole E chiaramente noi tenteremo di estrapolare qualche informazione Su un possibile spiderman 4 O comunque su quello che me in wire fare in futuro Con appunto spiderman Sarà difficile, saremo in tantissimi Però ci proveremo ragazzi Immaginate me in wire che legge jacksard Non so esattamente su reddit come funzionare Sinceramente, non ho mai fatto una cosa del genere Proviamo, vediamo come va In ogni caso comunque qualcosa dovrebbe saltare fuori Perché immagino che la maggior parte di noi Gli farà un po' la stessa domanda Quindi a qualcuno riuscirà a rispondere Speriamo di essere noi i fortunati Quindi stasera in live alle 21.30 Mi raccomando ragazzi Potrebbe essere una serata incredibile Io vi saluto, iscrivetevi e abbonatevi E noi ci vediamo tra qualche ora Con Tommy McGuire Incredibile A più tardi Ciao a tutti